Mara, consegniamo, consegniamo, allora abbiamo il disco di platine, anzi due regali, uno te lo consegno lui e uno io, per il complesso. Una curiosità, una curiosità, questa esibizione che è stata fatta adesso a New York l'hanno vista? Sì. Allora, portiamo un bel regalo a Mara, Clementino, no? Questa è il mio e il tuo. Vediamo, vediamo. È il suo questo. Mara, apri. Ma veramente, no, dai, è uno scherzo. No, dai. Allora, quello è il mio regalo. Qual è? Questo è il babà. Ah, il babà. Giù salato. Grazie. Bravo, originale. Grazie. E dai da Napoli. L'ha portato da New York? Sì. Allora, questo... Pensate, è venuto da New York. È arrivato da New York il babà. Sì. E dove l'hai comprato a New York? A Manhattan. Ah, no, a Manhattan. A Manhattan. Lui non è potuto andare. Da Manhattan. Ammannata, a Manhattan. Posso aprire? No, ammannata. Sì, apri pure questo. Ma è duro? Esatto. Sì. È durissimo? Guarda. È durissimo? No, no, no. No, no, no. Espevole. Eh, non si... Chi l'ha chiuso? Sì. Permettete? Ma che vuoi? Prego, prego. Permettete, scusate. Scusate, scusate. Sì, lui che è esperto. Ah, vedi che non è intelligente. Scusate. Per prendere un applauso, per aprire un pacco e una soddisfazione. Grazie. Ho capito, ma c'è una scatola chiusa. No, questo non so se... Bisogna aprirla. Allora... Bisogna dire anche... Mamma mia, pesa! Sì, pesa. Eh, pesa. Ecco qua. Questa è la mozzarella, dai, mozzarella. C'era qualche altro? No, no, è solo un polistiroso. Beh, io devo dire la verità. Ma chi l'ha sigillato? Ah, mi dicono di non aprire perché esce l'acqua. Non apriamo perché esce l'acqua. Ma cos'è? È una zizzona di battipaglia. La camussarella dopo, la camussarella dopo. Per lui la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la camussarella dopo. A me se niente più. Grazie. Grazie. Mi hai regalato zizzona? No, veramente lui, però. Mi hai regalato giù. Sì, è stato petto. Grazie zio, grazie zio. Allora... Grazie.